in questa puntata parleremo dell'interfaccia di inscape all'apertura l'interfaccia si presenta in questo modo in particolare con una guida che rappresenta una pagina a4 che può essere compresa come riferimento naturalmente ma può essere modificata in caso si vogliono fare lavori con altri tipi di impaginatura oppure se da noia può anche essere tolta per far questo noi possiamo andare sulla modifica le proprietà del documento del singolo documento si apre la proprietà del documento con le varie tab qui sopra noi andiamo nella prima che si apre che pagina e andiamo a bordo mostra i bordi della pagina lo togliamo e possiamo chiudere a questo punto è scomparso noi abbiamo l'area di lavoro che è anche detta canvas completamente completamente libera vediamo subito che a sinistra si colloca la barra del degli strumenti la toolbox praticamente o tour bar secondo come gli autori che che la citano in modo diverso ma sostanzialmente è la barra che contiene gli strumenti principali di lavoro di escape dallo strumento selettore fino a quello per misurare i segmenti e gli oggetti creati gli oggetti creati sono quelli che vengono disegnati qui tutto ciò che viene disegnato qui è un oggetto sia esso una forma quindi qualcosa come forma predefinita oppure un tracciato quindi qualcosa che può essere fatto ad esempio a mano libera andiamo qui proponendo il cursore proprio in cima esce la barra principale praticamente del menù con escape che dalle informazioni generali su escape file il classico menù che si apre dove noi possiamo creare un documento un nuovo documento da un modello preordinato aprire o aprire i modelli più recenti ricaricare l'ultima versione di un lavoro salvarli esportare e così via abbiamo poi modifica visualizza livello questo dedicato al livelli cliccando qui si apre la finestra livelli come illustrato nella lezione precedente e la menu degli oggetti non detracciato quello per il testo per lavorare con i testi quelli filtri estensione ovviamente una pagina generica di aiuto tutti queste voci tutti questi menu saranno oggetto di una trattazione separata e specifica quindi adesso andiamo solo a fare una visione visione generale su queste su queste voci abbiamo poi la la prima la prima parla quella che è definita command bar nel nei testi in inglese di riferimento qui vengono ripetuti talvolta anche delle con le icone dei comandi già visti nei menu ad esempio qui abbiamo il crea nuovo documento apri salva stampa importa esporta e così via così come copia incolla e taglia classici qui invece per lo zoom che troviamo il menu visualizza qui è la gruppa duplica o clona padron qui è duplica o clona qui era gruppa qui apre delle finestre la finestra dei livelli come abbiamo già visto ha un suo menù dedicato ma anche qui per lo strumento testo apre una finestra specifica per il menù testo e questa forse quella più importante che troviamo usare più spesso quella su riempimento e contorni che ci permette di dare riempimento trattare riempimento il colore del contorno e anche lo stile il contorno degli oggetti poi abbiamo qui l'editor xml serve aprire l'editor per modificare direttamente l'albero xml è un pochino complesso questo invece allinea distribuisce gli oggetti qui abbiamo già visto modifica le proprietà di questo documento e questa invece è una parte piuttosto importante che modifica praticamente sono le preference le preferenze di tutto il tutto in scape tra cui anche ad esempio interfaccia la lingua di riferimento insieme a moltissime altre altre voci queste voci sempre quelle relative agli strumenti selettore nodo forma eccetera possono anche essere richiamate cliccando due volte sullo specifico strumento abbiamo visto sempre il selettore richiamiamo due volte si apre si con le preference del del selettore chiudiamo un attimo qui e vediamo innanzitutto una cosa ora abbiamo cancellato la pagina di riferimento riprendiamo un attimo per una informazione piuttosto importante che è questa questo spigolo qui è come vedete lo 0 delle coordinate del sistema e coordinate di inscape quindi questo è lo 0 i valori degli assi sono positivi crescenti andando verso destra e verso il basso poi come ci si muove dentro questo canvas allora se noi abbiamo qui un un oggetto noi chiaramente se clicchiamo sopra di esso lo spostiamo per spostarci invece qui attorno alla finestra spostare la finestra in caso un disegno esempio molto ampio noi possiamo ottenere premuta la rotellina del mouse e ottenere così l'effetto panning c'è anche un'altra possibilità per chi non avesse la rotellina del mouse con command b o control b noi possiamo aprire queste due barre che sono le barre di scorrimento e quindi fare lo stesso panning questo questo caso non ha non ha senso panning questo caso verticale e utilizzando queste barre però vanno a togliere spazio al all'area di disegno per cui solitamente consiglio di non utilizzate e andare avanti con la rotellina del mouse vediamo poi che ci possono essere anche può essere necessità di uno zoom zoom si fa con control e rotellina del mouse vediamo che in basso questo valore cambia questa percentuale se io zoom ed è proprio la percentuale relativa allo zoom quanto zoom accanto qui ci sono le coordinate del mouse eccole qui muovendole io vado sulla sulla l'angolo in alto a sinistra della pagina e ottengo praticamente 0 e 0 qui in cima appunto c'è il righello delle coordinate righello orizzontale qui c'è il righello verticale e possiamo possiamo trascinare una guida da qui ecco l'utilizzo di interfaccia possiamo avere una guida trascinando semplicemente cliccando sul righello e trascinando via possiamo avere anche una guida inclinata se andiamo sull'angolo e cliccando e trascinando posizioniamo una guida secondo diciamo le coordinate che ci piace possiamo togliere queste guide con rimuovi tutte le guide nel menu modifica ok poi possiamo anche utilizzare in un altro sistema per lo scorrimento per lo scorrimento orizzontale però stavolta non panning solo esclusivamente orizzontale con la rotellina e mouse e il tasto maiuscolo eccolo qua poi con il tasto command o control e le frecce direzionali ok quindi qui abbiamo un grande serie di possibili combinazioni per il per il movimento ma abbiamo anche con contro stavolta solo esclusivamente contro anche per gli utenti mac e tenendo previsto la rotellina nel mouse ecco che il canvas stesso gira noi lo rilasciamo e vediamo che questo valore è cambiato questo corrisponde alla rotazione del canvas del cede l'area di disegno lo possiamo naturalmente cambiare con il più e il meno oppure naturalmente impostare direttamente da tastiera per esperienza questa è un qualcosa che da noia perché magari cerchiamo noi vogliamo fare un panning semplicemente una traslazione sbagliamo premere il tasto ecco che ci ruota tutto a questo punto noi possiamo andare in visualizza orientamento canvas e o impostare la rotazione quindi resettarlo oppure impostare la blocco della della rotazione qui lo possiamo fare anche tramite le preferenze globali del programma in questo caso il bloccaggio sarà praticamente di default ogni volta che si apre il programma mentre in questo caso da menu come abbiamo fatto noi è un qualcosa che è semplicemente estemporaneo è legato alla sessione di lavoro che stiamo che stiamo facendo torniamo un attimo al menu il sistema più rapido appunto è quello della rotellina e contro ma abbiamo anche i tasti più e meno e oppure maiuscolo premuto e rotellina cliccata stavolta non premuta per allontanare mentre con control e il click della rotellina noi avviciniamo poi un ulteriore sistema per zoomare quello premere maiuscolo cliccare la rotellina di trascinamento e fare un drag in questo caso si apre una finestra virtuale ma in realtà è l'indice del nostro del nostro zoom che avete visto è arrivato a livelli abbastanza spaventosi quindi un sistema difficilmente controllabile che riporto solo per dovere di cronaca ritorniamo con 5 a visualizzare la nostra la nostra pace c'è anche un sistema per zoomare che è questo gradisce un picciolice qui oppure la relativa voce ingrandimento sul sul meno passiamo poi al continuare qui in questa questa seconda riga che troviamo questa è peculiare di ciascun di ciascun strumento è in effetti l'acqua e la tool control bar qui abbiamo la command bar qui la tool control bar se noi cambiamo strumenti vedete che anche questa cambia perché è appunto peculiare di ciascuno strumento e fornisce le variabili o le modalità d'uso o comunque delle integrazioni all'utilizzo dello strumento selezionato e anche questo naturalmente verrà trattata molto più approfonditamente quando andrò a parlare del dei singoli dei singoli strumenti qui qui su abbiamo una un'altra finestra abbiamo una finestra relativa anche questo allo strumento che in questo caso è stato il rettangolo ancora attivo e se noi clicchiamo ci apre anche qui le preference dello strumento qui ci da ci dice che il riempimento del rosso il contorno non è impostato ma ci dice anche qui aprendo le preference che noi possiamo da ora in poi aprire lo strumento in questo caso rettangolo utilizzando l'ultimo stile usato cioè quindi questo oppure impostare lo stile di questo strumento se noi decidiamo di avere i rettangoli da ora in poi di questo blu senza contorno clicchiamo qua e avremo blu ogni rettangolo futuro che faremo o se no naturalmente impostarlo secondo nostro il nostro gusto qui abbiamo la barra degli snap barra degli agganci questa è una barra che permette un'infinità di combinazioni vediamo un attimino di fare un qualcosa di esplicativo molto rapido diciamo attiviamo col primo bottone si attiva tutta la barra mentre con questi bottoni identici a questo si attivano le sottosezioni in questo caso se noi volessimo ad esempio agganciare i due centri possiamo cliccare tutti e due centro trasformazione e il centro di rotazione preferisco perché lo snap è un comando un pochino bisbetico ci andiamo sul sicuro e lo portiamo qui e quando si agganceranno il centro di rotazione oggetto a 100 ecco qua centro di rotazione oggetto a centro di rotazione oggetto i due centri di rotazione si sono agganciati e quindi diciamo ha funzionato l'intero sistema possiamo se vediamo se vogliamo disattivarlo possiamo sia cliccare qui ma possiamo che disattivare l'intera barra cliccando qua naturalmente anche questa barra sarà trattata a parte in basso in basso abbiamo la palette dei colori la palette dei colori che può essere fatta scorrere con la rotellina del mouse una volta che il cursore vi è sopra fino fino in fondo oppure appunto con la barra di scorrimento qui possiamo cliccare e scegliere le varie palette a disposizione ci possiamo anche avere una serie di colori cliccare qui e avere il caro vecchio set di colori di windows xp oppure di ubuntu i colori classici di ubuntu e così via naturalmente la palette è personalizzabile il mio canale ciò no anche un tutorial per creare la propria la propria palette ritorniamo alla quella di default comunque questa può essere utilizzata naturalmente per cambiare il colore semplicemente cliccando e trascinando il colore desiderato se noi volessimo applicare finalmente un contorno a questa questa figura e andiamo sul contorno decisamente quindi è un qualcosa di un pochino scomodo come andare fisicamente sul sul tasto sul contorno va premuto il tasto maiuscolo se volessimo cambiarlo diciamo direttamente cliccando sulla palette mentre non è necessario se noi vogliamo mettere il riempimento si clicca direttamente e a proposito dei riempimenti e contorni noi possiamo vedere questa questo angolino qui in basso a sinistra che l'angolo punto che ci indica i valori di riempimento e di contorno cliccando due volte rapida successione si apre la finestra di riempimento e contorno anche questa meriterà una lezione a parte ma velocemente si può dire vedere che qui abbiamo il caro vecchio sistema rgb impostato per dare un colore uniforme al riempimento si legge più o meno così e noi possiamo anche cambiarlo e quindi con esso si cambia il colore relativo del riempimento chiudiamo un attimo possiamo anche notare un'altra cosa che se noi selezioniamo ambedue i valori praticamente questa casella ci porta ad una ad un colore mediano ancora mediano infatti qui c'è una atti average cioè fare una media dei colori quindi non essendo due gli oggetti selezionati lui ci dice che fa una media non solo sottoscrive differente contorno perché in realtà uno esiste e un altro contorno invece non c'è se noi volessimo dare a questo rettangolo più piccolo un contorno se selezioniamo ci darà un colore arancione che in effetti è una media tra il giallo e rosso e qui ci scrive avere ci possono anche esserci altre scritte esempio m per multiplo vediamo come cancelliamo questi due e facciamo due colori per duplicare velocemente ho premuto la barra spaziatrice con il rettangolo selezionato se noi selezioniamo questi due rettangoli vedete che i colori sono chiaramente questo marrone e questo giallo questo non si scappa perché la loro media in realtà è semplicemente loro stessi ma quello che interessava a me è far uscire questa m m sta per multipli significa che questo colore questo contorno sono applicati su più oggetti questo è il significato di questo m poi se vogliamo applicare invece un gradiente qui apparirà una scritta di scritta differente e qui accanto l come gradiente lineare questa era una una così piccola notazione se qui invece il gradiente lo volessimo mettere di tipo circolare una volta selezionato l'oggetto è un po e r radiale riempimento riempimento radiale quindi niente di niente di particolare solo qualche informazione generica di fare un altro colore qui perfetto allora abbiamo visto prima intravisto prima le le guide questo sistema le blocca tutte in posizione una volta che abbiamo premuto le guide non si spostano più quindi lo selezioniamo ci passiamo sopra e cancelliamo la guida con del una volta che cambia il la forma del cursore la guida selezionabile è modificabile è rotabile ma è anche cancellabile adesso ci spostiamo ancora sempre però su questa su questo riempimento contorno selezioniamo un oggetto andiamo su contorno e qui abbiamo premuto ed è uscita la finestra di riempimento ma se andiamo col tasto destro esce una finestra di selezione rapida che ci dà la possibilità di scegliere l'unità di misura del contorno e ci dà una serie di valori predefiniti su cui scegliere una sorta di scelta rapida su cui appunto andare a operare questo è una cosa piuttosto piuttosto utile se invece utilizziamo il tasto destro qui si apre un altro tipo di menu contestuale dove con modifica riempimento apre la finestra riempimento contorno oppure qui ultimo colore impostato ultimo colore selezionato inverte i colori allora è diverso da questo inverti riempimento contorno significa che quello che era il colore del contorno diventa il colore del riempimento e viceversa invece qui inverti inverte proprio il tipo di colore sulla tavolozza dei colori cioè praticamente il colore che sulla ruota dei colori dei colori la classica rota dei colori è all'opposto infatti questi sono i colori opposti oppure possiamo mettere tutto il bianco questa qui abbiamo aperto il menu contestuale sul riempimento possiamo fare anche l'inversione del colore qui del contorno nero rendi opaco riempimento quindi questo è già opaco al cento per cento oppure disattivare il riempimento o rimuovere riempimento se rimuoviamo riempimento ecco che il bianco che c'era prima sparisce si intravede la riga qui della della pagina andiamo sul contorno il contorno lo mettiamo ma bianco e quindi l'oggetto sembra sparire diamoli ancora un colore giusto per sicurezza questa casellina è la casellina della dell'opacità il l'oggetto anzi gli oggetti sono completamente opachi ma selezionando le uno e impostando un valore o con i tasti più o meno o scrivendo direttamente oppure tasto destro menu contestuale per una scelta rapida 25 per cento anche che possiamo modificare il il nostro riempimento qui invece si aprono si apre una piccola parte dedicata ai livelli ai layer questo indica a che livello siamo a questo caso il primo livello cliccando qui si aprirebbero se avessimo più livelli la lista dei livelli per poter attivare rapidamente un livello selezionato facciamo un attimo una prova creiamo due livelli altri due livelli ecco qua a questo punto ecco qua ci dice che siamo sul layer 3 attivo possiamo andare sul layer 2 possiamo andare sul layer 1 in questo caso gli oggetti sono tutti sul layer 1 diamo un'opacità 100 per cento a questo e mandiamolo col tasto destro meno contestuale sposta livello spostiamo sul livello 3 ok siamo sul livello 3 noi abbiamo deciso però di non voler vedere più il livello 3 quindi possiamo da qui togliere la visualizzazione del livello 3 la riproponiamo e stavolta vogliamo bloccare il livello 3 e in questo caso questo oggetto non è più selezionabile mentre questo che è sul livello 1 è tranquillamente selezionabile spostabile e scalabile e quant'altro è l'equivalente praticamente di avere la finestra dei livelli aperta e infatti le 3 è bloccato adesso è sbloccato invisibile visibile e così via è una sorta di scorciatoia per le funzionalità principali più immediate della finestra dei livelli qui accanto abbiamo un qualcosa di molto utile una barra che ci spiega che cosa sta avvenendo in questo momento in questo caso vedete ci dice che è stato selezionato un rettangolo in che livello è stato selezionato e quello che si può fare in questo caso si può cliccare la selezione per alternare le maniglie di dimensionamento quindi cliccando una seconda volta ci sono quelle di rotazione e anche un bucchio di altri suggerimenti se io voglio fare un elisse mi dice trascina per creare un elisse trascina e controlli per fare un arco un segmento e clicca per selezionare se facciamo questo mi dice ulteriormente che se voglio fare un cerchio nell'issima scala devo premere control e infatti mi dice anche che il rapporto stanno i raggi della mia ellis in questo caso 1 1 ed è un cerchio se lo sposto leggermente a destra il rapporto tra un raggio e l'altro è 3 a 1 e questo caso e si può anche avere un rapporto aureo la regola ora 1,618 a 1 maiuscolo per disegnare tono a punto iniziale qui in questo caso io sto praticamente trascinando la mia ellis a partire dall'angolo superiore sinistro premendo maiuscolo invece ecco che il quello che era punto di partenza in alto a sinistra diventa dove c'è il centro del del centro mentre il questa ellis e si espande dal proprio centro anziché dal proprio vertice non solo volendo allora abbandono un attimo il tasto contro quindi si perderà un po la proporzionalità ma un ulteriore pressione il tasto alt stavolta ecco che io trascino il l'ellisse non più dal trabando in box cioè dalla sua area di ingombro ma direttamente dal suo bordo se noi volessimo fare delle operazioni non non consone proibite in un certo senso ad esempio qui creiamo un gruppo e qui si vuol fare un'operazione booleana tra questi intanto ci dice due oggetti selezionati e di che tipo e poi facciamo un'operazione booleana con tracciato intersezione dice uno degli oggetti non è un tracciato impossibile eseguire l'operazione booleana quindi ci dà un grosso un grosso usirio più o meno come introduzione alla interfaccia di escape questo è più o meno tutto come vi ho detto tutto quello che è stato trattato velocemente sarà invece oggetto di un qualcosa di più specifico per singola per singola lezione vi ricordo che tutte le informazioni che vi ho dato e qualcosa in più sono su inscapire e la mia guida su inscape disponibile su amazon grazie dell'attenzione alla prossima